Dalla scala al bancone al palco del Movida ogni volta è un divertimento con le nostre interviste. I love you baby, I love you, I love you. Auguri, quanti anni compi? 27. Andiamo a un amore e una pionta, buonasera ragazze, il sale è scatenato, avete anche mangiato? Sì, bene, adesso digeriamo che è una bellezza, si mangia benissimo, la venite spesso qui, ci piace molto questo locale, e che vi piace del Movida? Ma l'ambiente è tranquillo, però ci divertiamo. Bene, bene. E allora possono venire i nostri amici a casa? Bene, bene. Noi vi salutiamo dal Movida, un bacio ragazze. Ciao. E sulle note di E tu sopra di me? Madonna, e noi sopra il palco? E noi sopra il palco. Abbiamo deciso, siccome qui al Movida ogni settimana c'è un'intervista diversa. La facciamo in un posto diverso. Appunto. Questa sera l'abbiamo scelto. Chi nel bagno, chi ha letto, noi la facciamo sul palco. Noi abbiamo deciso sul palco, perché quale migliore posto per poter fare un'intervista, qui praticamente è il centro, è il cuore del Movida, è il palco. Nelle ultime settimane, con le altre speaker di Night and Day, abbiamo visionato un po' tutto il locale, in tutti i posti. Ci mancava il palco. Aspettavo te per farlo proprio nel cuore del Movida. Com'è eccezionale il Movida che vi siete persi stasera. Chi non è venuto, non sapete cosa vi siete persi. Un pianeta al centro dell'universo, questo è il Movida. Anche perché ogni settimana qui noi ci divertiamo, a parte che voi potete mangiare quello che volete, dalla pizza, al panino, alla suzzicheria, alle bruschette, a qualsiasi cosa che sia, in mangiare puro, sano, buono qui al Movida, oltre al divertimento. Noi offriamo un'ottima cucina. Con i live, si divertono e poi scendono giù in pista e sul palco per poter digerire quello che hanno mangiato ballando. Con i nostri live, con il DJ Danny Russo. Sabato prossimo ci saranno i Rebus, poi ci sarà Vanessa, poi ci sarà Agostino, poi ci sarà i sottosopra come quello di stasera. Poi ritornerà Gianni Marigliano in compagnia di Massimo Baccano, poi ci faremo la taverna con Luca Sepe. Da lunedì alla domenica, se voi scegliete di festeggiare i vostri eventi, noi lo possiamo fare, in qualsiasi giorno della settimana, vi offriamo anche i bigliettini, sono omaggio, a soli 10 euro, prepariamo il tutto. Madonna! Che cosa sei un vulcano in piena! Giovedì, venerdì, sabato e domenica, a 360 gradi, il Movida soddisfa le vostre eccellenze. Noi a 360 gradi ve lo stiamo facendo vedere, il Movida. Noi vi vogliamo ricordare, per chi non lo sappia, ma purtroppo lo sanno, anche le pietre della strada, ci troviamo a San Marzano, via Pendino. Il 69 stasera non ci sta, ma c'è il 99, 0815187546, per chi voglia prenotare il divertimento, questa settimana da palco. Oppure vivilamovita.it E sulle note di Erminio Sinner, tu sopra di me, non posso fare altro che salutare il mio amore che sta a casa. Sei la mia vita, amore mio. Dal Movida è veramente tutto, vi salutiamo un bacio. E vi salutiamo, vi aspettiamo. È ritornata Sara, ciao amore! Sì, ciao amore!